Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Questo è un video registrato perché per chi non lo sapesse mi trovo da lunedì scorso in Russia. Mi sono spostata da Mosca mercoledì, sono arrivata a Donetsk dove mi trovo tuttora. Ora farò un piccolissimo recap per chi non sapesse. Io grazie alla disponibilità e all'invito del Ministero della Difesa russo ho avuto l'opportunità di fare questo viaggio che per me è una grandissima opportunità per poter testimoniare quello che sto vedendo rispetto alla situazione che c'è qui. Sappiamo che viviamo in un momento storico in cui lo scontro, operazione speciale militare, guerra, come la vogliamo chiamare, tra Russia e Ucraina è molto importante non solo per queste due nazioni ma per tutto l'Occidente perché sappiamo che c'è coinvolta l'Unione Europea, l'America, insomma tocca un po' tutti quanti e i cui effetti purtroppo li vediamo tutti. Ora in effetti quello che noi sappiamo di quello che sta accadendo in quelle zone, noi come occidentali, noi come italiani, ma non è un problema solo italiano, mi sono confrontata qualche giorno fa con un giornalista norvegese e anche in Norvegia esiste più o meno lo stesso sistema di informazioni, purtroppo siamo soggetti a una valanga di dati che ci vengono offerti amorevolmente dal mainstream e che però poi nel momento in cui si vanno a confrontare le informazioni che arrivano un po' a strozzo e a bocconi e con difficoltà da quei territori, quindi dall'area diciamo del Donbass, vengono fuori delle discrepanze piuttosto importanti e quindi per evitare di schierarmi da una parte o dall'altra giusto così perché mi può essere più simpatico Putin piuttosto che Zelensky che non avrebbe senso, ho deciso di venire a vedere io personalmente e in forma così un po' quasi giocosa di portare con me tutte le persone che vogliono seguirmi in questo viaggio, molti lo stanno già facendo, c'è un canale Telegram che si chiama Secondo Eleonora Fani e il cui link troverete in descrizione dove quando mi è concesso perché la connessione internet non è sempre favorevole cerco di postare quello che vedo, quello che faccio, una sorta di neanche un diario di viaggio ma un viaggio in comune diciamo una grande commitiva per tutti quelli che vogliono venire con me e cerco di trasmettervi le mie emozioni, i miei sentimenti, i miei vissuti, le mie percezioni che forse sono il valore aggiunto del dato statistico piuttosto che così molto giornalistico. Quello che sto cercando di fare quando mi è possibile è darvi proprio la percezione di questa realtà che è tanto, tanto diversa credetemi da quello che ci immaginiamo. Io arrivando qui pensavo già di avere una consapevolezza abbastanza forte che la percezione che abbiamo dall'Italia di questa situazione, di questa guerra fosse molto manipolata ma ovviamente farsi un'idea solo ascoltando qualcun altro che parla è molto difficile ed è molto diverso dall'essere sul posto. Chiaramente voi non siete realmente sul posto con me ma attraverso questa sorta di magia virtuale grazie anche alla possibilità tecnologiche e al canale telegram che abbiamo sto cercando di farvi condividere il più possibile i momenti importanti, i momenti significativi o le emozioni che sento io nel mio cuore. Questo non vuole essere un assoluto ovviamente, non vivendo alcuna verità ma semplicemente quello che io sto scoprendo passando del tempo qui in una condizione che è tutt'altro che facile, credetemi. Questa sera sono stata fortunata perché per la prima volta da quando sono qui ho avuto un'oretta di acqua tiepida, loro la chiamano calda, da noi quella non è calda, è giusto tiepida. Ma va bene, ho potuto anche lavarmi i capelli in miracoli perché cominciavano a dare anche un po' fastidio. La città di Donetsk è una città che al momento è veramente un punto caldo dei combattimenti. La prima sera che sono arrivata, la mattina, sono subito arrivati un gruppo di 40 graz che sono andati a colpire tutta una serie di edifici della città. A breve vi posterò un video montato di questo, purtroppo io di giorno sono impegnata per andare in giro, per visitare, per vedere, per filmare e la sera devo scaricare questi video e mi ci vuole del tempo e poi montarli, quindi sono sempre un po' stretta. Diciamo che le mie tabelle di marcia sono sempre piuttosto ottimistiche, ma non sempre riesco a rispettarle. Abbiate pazienza. La giornata di ieri, come vi dicevo, comunque l'ho passata a Donetsk e oggi invece sono stata a Mariupol e di questo vorrei parlarvi. Non ho ancora avuto modo di mettere insieme la documentazione film e fotografie, e filmica, si può dire filmica, forse sì, che ho fatto, ma comunque posso raccontarvi il mio vissuto e la mia esperienza. Intanto vi devo dire che stamattina fino a un certo punto è stato tutto abbastanza tranquillo nel centro. Come ho già detto in altre occasioni, Donetsk è una città molto grande, a un milione di abitanti, la periferia è molto estesa e la periferia viene colpita quotidianamente più volte al giorno. Anzi, non è escluso che mentre parliamo sentirete, non so se il microfono è abbastanza sensibile, ma si sentono chiaramente i colpi, sia dei razzi che arrivano, sia di quelli che partono. Diciamo che il centro di Donetsk ultimamente è stato veramente preso d'assalto e lo colpiscono continuamente, è stata colpita la chiesa, ospedali, università, ferrovia, case, abitazioni, le strade, di tutto e di più. Stamattina è arrivato in realtà un corpo di artiglieria che ha colpito un pullman di linea, una corriera, e so che c'è stata una donna ferita, ma non mi sembra che ci siano stati dei morti. Poi io sono stata a Mariupol, anzi Mariupol si dice, adesso sto anche imparando come si dicono i nomi russi perché sono completamente digiuna di questa lingua e ho scoperto che poi rientrando erano arrivati, non so, mi sembra 15, grazie nuovamente, che hanno colpito una zona residenziale sempre del centro. Credo che siano state colpite tre abitazioni, un condominio e il resto non saprei, probabilmente sono finiti sparsi. Vengono lanciati così, come le monetine su un tavolo. Hanno un'area ovviamente che viene colpita, ma non sono mirati, quindi in realtà do coio coio, ecco, è un po' così. Non credo che ci siano stati, che sappia io, non ci sono stati morti neanche questa volta, quindi è andata bene. Pensate come vive la gente qui però. Ogni volta si dice, oggi mi è andata bene. Non è un bel vivere. Loro si sono in qualche modo adeguati, questo è vero, ma sono molto stanchi perché in realtà questa situazione, anche se adesso si è acuita, soprattutto con tutti questi colpi che sta subendo il centro, il proprio centro della città, ma in ogni caso Donetsk è colpito dal 2014. La gente è otto anni che vive in questo stato e quindi non ne può più. Ma oggi vi parlo di Mariupol. Mariupol significa la città di Maria. Era una città, prima dell'inizio dell'operazione militare speciale, quindi prima del febbraio, fine febbraio di quest'anno, aveva 500.000 abitanti, che comunque non sono pochi. Ricordo sempre, io ovviamente sono nata a Torino, o Torino come metro di paragone perché la conosco bene, lì sono poco più che 800.000, quindi diciamo che è più di metà della città di Torino, non è piccola. Ovviamente copre una superficie molto più estesa perché la Russia ha degli spazi sconfinati e le città sono tutte molto estese. Lasciamo stare Mosca, che è gigantesca. Quando a Mosca ti dicono di andare in un posto che è vicino, può essere anche un'ora e mezza di macchina. Per loro quello è vicino, perché le distanze sono veramente importanti. Allora, questa mattina sono partita lasciando un video messaggio a tutti quelli che mi seguono su Telegram, per poi scoprire che la connessione internet mi aveva abbandonato e so che il messaggio poi alla fine è arrivato nel tardo pomeriggio facendo preoccupare tutti quelli che mi seguono. Sappiate che purtroppo la connessione qui è un po' quella che bisogna adeguarsi e adattarsi, eppure ho un telefono di Doniesk, cioè una scheda del luogo che è l'unica poi tra l'altro che funziona, ma nonostante questo non sempre così semplice. Al momento sono con la wifi dell'albergo e anche questa non sempre funziona, quindi così. È un po' una monetina che viene lanciata ogni giorno, testa o croce, e vediamo quali sono le condizioni con cui dobbiamo affrontare la giornata. Allora, Mariupol è una città che è molto importante da un punto di vista storico, perché, per chi non lo sapesse, piccolissimo recap, proprio questa città è stata la prima ad essere liberata durante l'operazione militare speciale. È stata liberata grazie a una strategia piuttosto astuta da parte dei russi, perché sono arrivati con una conformazione potremmo dire a Tenaglia, cioè sia dall'alto, quindi da Donetsk, e sia dalla Crimea, che risulta più a sud, quindi è stata bloccata, è stata presa sia dall'alto che dal basso in una sorta di manovra Tenaglia. A questo punto le truppe ucraine hanno potuto solo proteggere la città e quindi il fronte è diventato l'area della città. Questo è molto importante perché, prima di andare avanti con questo racconto di quello che è successo, ci tengo a dirvi che cosa si vede durante il percorso, il tragitto, la strada da Donetsk a Mariupol. Sono 110-115 km, una centinaia di chilometri, di una strada che facendola oggi è una strada molto bella, nel senso che ha una buona pavimentazione, un buon asfalto, ma è impressionante, veramente impressionante, vedere il numero di mezzi che lavorano, perché questa strada è in costruzione, ormai è molto avanti con i lavori, però ancora si vedono camion continuamente, sia che trasportano materiale per Mariupol, dove vedremo che c'è una quantità di cantieri incredibile, sia proprio per la costruzione della strada, che l'hanno rifatta da zero, proprio dalla base, dalla soletta, dalla impermeabilizzazione, due strati di asfalto, eccetera, eccetera. È stata fatta praticamente completamente. Sappiate che da quando è stata liberata e quindi sono finiti i combattimenti ed è finita quella lunghissima teoria di carri armati che passavano per quella strada, c'è stato una sorta di cambio e immediatamente dopo sono arrivati un'altra lunghissima fila, questa volta non di carri armati, ma di mezzi proprio per ricostruire la strada, che tra l'altro era stata pesantemente danneggiata, per esempio c'è un ponte che è stato fatto saltare quando si sono ritirate le truppe ucraine, era molto colpita. Ci sono campi sia da una parte che dall'altra e questi campi sono pieni di mine, per cui passando potete vedere ancora i paletti di dove ci sono queste mine perché non è stata ancora bonificata, c'è molto da fare in queste zone e questa non è propriamente una priorità, quindi verrà bonificata ma si presume che ci voglia un po' di tempo. Ma quello che ancora è interessante è lo scontro così interiore che si percepisce, perché da una parte vedete questa grande energia, questo vigore degli uomini che cercano di ristrutturare la pavimentazione o meglio di rifarla da capo e quindi uno stato fortemente costruttivo e positivo, mentre dall'altra visto che questa strada in questo momento passa a 5 metri, scusate 5 metri, 5 chilometri dalla linea del fronte da dove partono e arrivano tutti gli attacchi, è un continuo sentire suoni insomma o di artiglieria varia o di razzi in arrivo, in partenza, un casino insomma. E mentre sentite tutto questo, scusate mi sto strozzando, vedete dall'altra parte queste persone che più o meno tranquillamente sono lì che lavorano per rifare la nuova strada, come se ormai fosse tutto già finito. A me personalmente ha fatto molto pensare, perché ho visto una volontà da parte della Russia, sono tutti mezzi russi questi, di ricostruzione, di rimettere in pista questa linea di comunicazione tra queste due grandi e importanti città che una è stata, al momento non lo è più, perché al momento Mariupol è distante dalla linea del fronte, appunto centinaia di chilometri, perché la linea del fronte è su Donetsk, quindi ormai è più tranquilla, ma Donetsk non lo è affatto. Allora, quello che dovete sapere di questa strada per esempio è che è stata percorribile da tutti, insomma in maniera abbastanza libera, solo quest'estate, nella tarda primavera diciamo, quando sono finiti i combattimenti, perché precedentemente c'erano tutta una serie di checkpoint che peraltro ci sono ancora, ma molto meno restrittivi, che non permettevano alle persone di transitare. Io ho cercato di informarmi un po' per capire, ma insomma è possibile che non ci fosse nessuno che passasse da una parte all'altra. È vero che Donetsk, appunto Repubblica Popolare di Donetsk, che più o meno riconosciuta, situazione molto ambigua, perché in realtà dal 2014 era libera, però in realtà secondo gli accordi di Minsk avrebbe dovuto ritornare all'Ucraina se avesse rispettato tutta una serie di patti o condizioni che poi, magari ne parleremo, non sono state rispettate e questo è agli atti, non è un parere personale. In ogni caso non si permetteva il transito, se non alcuni pensionati che avevano magari la doppia pensione riuscivano ad andare di qui e di là e c'erano dei grandissimi controlli, per esempio avevano grandi difficoltà medici, insegnanti, anche perché chi avesse avuto contatti anche indipendentemente dalla sua professione, un medico che avesse prestato i soccorsi o le cure a un russo era considerato collaborazionista e quindi poteva essere imprigionato e avere delle pene e questo è pazzesco, così come il grosso problema di cui qualcuno di voi sicuramente avrà sentito parlare, cioè dell'insegnare in lingua russa ai bambini, assolutamente vietato. Anche questo non è coerente con gli accordi di Minsk che prevedevano invece il rispetto delle identità culturali e anche della lingua, quindi la possibilità chi avesse una certa lingua di partenza di poterla mantenere. Premetto che in quest'area non ci sono solo gruppi russofoni ma anche altre lingue tipo l'ungherese e infatti quando c'è stata una sorta di rimostranza da parte proprio di Venezia mi pare che avesse evidenziato come non erano rispettati questi accordi di Minsk e la cosa non andava bene perché si andava a ledere i diritti umani. Kiev, l'Ucraina si è subito prontamente messa a ristrutturare il suo sistema legislativo per dare la possibilità agli ungheresi di mantenere la propria lingua per esempio a scuola ma ai russi niente, fregava proprio zero. E ovviamente all'Unione Europea è andata benissimo perché comunque Kiev ha risposto, l'Ucraina è andata incontro a questa esigenza di tutela dei diritti umani e ha completamente cancellato il fatto che invece c'era una popolazione molto più grande perché sono quasi tutti russofoni che andava tutelata ma non è questo non è assolutamente stato. Quindi pensate ai vissuti di queste persone che continuamente avevano come madre lingua perché essendo russofoni parlavano russo a casa sempre questa lingua e avevano i figli che dovevano imparare l'ucraino, dovevano andare a scuola con un insegnante che gli insegnasse obbligatoriamente l'ucraino altrimenti gravi pene e poi arrivavano a casa e ovviamente parlavano in russo perché questo era normale. Ovviamente per aumentare la pressione e spingere ancora di più verso l'ucraino anche le trasmissioni televisive sono state pilotate quindi i canali o comunque chi aveva canali televisivi aveva la possibilità di mandare delle trasmissioni in lingua russa solo per una piccola percentuale stabilita prima al di là della quale c'erano delle multe importanti. Mi sembra che per esempio gli insegnanti di Mariupol fino a che vi posso dire febbraio marzo così se avessero se fossero stati beccati mentre parlavano russo insegnavano la cultura russa a scuola avrebbero perso un quarto dello stipendio. Quindi già c'era tutta questa tensione ovviamente spostarsi da una parte all'altra e andare verso Donetsk che comunque era considerata per gli ucraini sempre ucraina ma dal 2014 come ho detto anche in un altro video chi i bambini nati a Donetsk dal 2014 in poi avevano una registrazione all'anagrafe come cittadini russi quindi anche legalmente parlando tutta questa polemica che sta venendo fuori sul dove collocare gli abitanti di Donetsk fa abbastanza ridere. Comunque a parte questo e a parte il fatto che girando su Donetsk si capisce perfettamente dalla struttura delle case delle abitazioni dalle scritte è tutto rigorosamente in russo non in ucraino e questo significa che loro sono Russia a tutti gli effetti oltre che se lo sentono e si sentono e addirittura chi parla il dialetto perché in realtà anche la lingua ucraina è una lingua un po costruita a tavolino come sempre imposta dall'impero austro-ungarico tempo che fu per creare sempre il solito motivo creare un cuscinetto una sorta di area che distanziasse l'Europa dalla Russia in modo da non esserne contagiati evitando così alla Russia oltre che acquisire territori invadere ma anche contaminare con la sua cultura terribile l'Occidente e quindi per avere un blocco più grande è stata creata più o meno a tavolino questa lingua che in realtà non parla nessuno ma davvero la parlano in pochissime persone ci sono tantissimi russofoni e poi ci sono delle persone che parlano questo dialetto che è un dialetto misto che ha delle parole delle inflessioni delle cose un po ucraine e altre russe persone che parlano questo dialetto qui ce ne sono io ne ho incontrate e tutti mi hanno detto di sentirsi assolutamente russi e ovviamente condannano pesantemente l'Ucraina che in questo momento gli sta distruggendo la vita anzi gliela sta distruggendo dal 2014 scusate se ho fatto questa piccola divagazione ancora una ne farò poi basta giuro forse non lo sapete ma Zelensky è russofono fa ridere un pochino Zelensky è russofono e ha imparato l'Ucraino dopo che è salito al potere pare che al momento lo parli abbastanza bene tranne qualche scivolone qui e là ma tutti sapete che nasce come comico e le suoi spettacoli comici in che lingua li faceva russo la famosa serie televisiva di due stagioni che vede lui che diventa presidente tra l'altro per chi l'ha vista mi dicono che anche fatta piuttosto bene e quindi accattivante scusate ecco anche lo sternuto non ho preso freddo non vi preoccupate ogni tanto sternutisco anche se fa freddo però si sopporta ecco questa serie televisiva anche questa in russo in cui tra l'altro il suo personaggio che appunto è un personaggio che diventerà presidente dell'Ucraina è l'opposto di quello che è lui cioè un personaggio tutto a favore del popolo che vuole aiutare il popolo tutto il contrario di quello che è stato ecco la cosa curiosa è che quella serie è russa cioè è in lingua russa e tra l'altro al momento con i blocchi che ci sono sulle trasmissioni televisive proprio per aumentare il lavaggio del cervello dei bambini che vanno già a scuola dove gli viene imposto l'Ucraino se poi anche in televisione sentono solo quello magari sai se non è questa generazione è la prossima o quella dopo sto cavolo di russo se lo dimenticano questo è quello che si vorrebbe da loro di conseguenza però fa pensare che invece proprio la serie che ha fatto diventare famoso il presidente dell'Ucraina sia della lingua che oggi è vista come il diavolo no vabbè queste sono le belle contraddizioni del nostro tempo poroshenko il presidente precedente precedente a Zelensky aveva lo stesso problema cioè non sapeva parlare l'Ucraino e tra l'altro nel suo caso lo prendevano anche in giro perché ogni tanto mentre parlava si faceva proprio suggerire cioè chiedeva ma quella parola lì come si dice come si dice perché non se la ricordava quindi ecco questo fa capire come sempre di più siamo in un teatro dell'assurdo ok ho finito di divagare torniamo a bomba a quello che vi volevo raccontare abbiamo l'ingresso a Mariupol attraverso questa enorme strada tutta rifatta con tutti questi mezzi dove c'è un altro fatto che va osservato perché secondo me è decisamente importante allora quello che vedete oltre ai campi che vandranno sminati eccetera sono una serie di sembrano delle collinette ma ce ne sono parecchie queste sono campi di linee difensive che l'esercito ucraino aveva fatto costruire aveva costruito già molto prima dell'inizio della operazione militare speciale praticamente ci sono dei bunker li trovate anche delle strade fatte apposta per i caro armati cioè tutto strutturato per avere una linea difensiva fuori dalla città fuori da Mariupol pensate che quando gli hanno fatto la famosa manovra tenaglia tra l'altro prendendo apparentemente anche abbastanza di sorpresa gli ucraini quindi Zelensky loro abbiano utilizzato queste linee difensive fuori dalla città no ci hanno provato no loro si sono piazzati in città questo è estremamente importante per capire quello che si vede nel momento in cui si arriva a Mariupol perché non è uno dovrebbe chiedersi ma se ce le avevano le avevano già fatte ed erano anche tante cioè solo un sacco di questi bunker perché non hanno usato almeno all'inizio no se poi ti va male indietreggi quella linea difensiva beh innanzitutto perché bisognava fare molta più fatica combattere in campo aperto è molto più complicato bisogna lavorare di più diciamo è anche più difficile far arrivare cibo e rifornimenti ma soprattutto perché la strategia geniale di questo quasi premio nobel per la pace il nostro Zelensky è stato quello di utilizzare gli abitanti di Mariupol come scudo e si chiama proprio così scudo umano sembra brutto da dire però questo è che cosa ha fatto allora lui è entrato in città ed è andato a prendersi gli edifici più alti più robusti più resistenti e più alti molto spesso erano condomini abitativi ha buttato fuori le persone che c'erano dentro lasciandogli proprio pochissimo cinque minuti dieci minuti per liberare l'appartamento e ha piazzato lì la sua linea di difesa questo che cosa significa questo significa che in questo modo il punto da cui partivano tutti gli attacchi erano queste case ma ovviamente per poter contrattaccare venivano anche colpite e quindi si andava a colpire la città le case la gente e qualsiasi minimo scrupolo avessero avuto i russi per non colpire la gente avrebbe ovviamente portato un vantaggio agli ucraini questa cosa è realissima non è un'invenzione io sono stata sul posto oggi ho visto una serie infinita di case in una condizione che è difficile da immaginare completamente distrutte bucate bruciate devastate dilaniate dovrei dire sono salita ed entrata in una di queste case una di quelle che erano in una linea che mi hanno detto che è stata proprio linea di scontro sappiate che i punti di scontro la linea proprio di guerra calda veniva continuamente spostata in città e questo rendeva altamente pericoloso andare in giro perché non si sapeva mai qual era veramente il punto di fuoco ma una di quelle più importanti di fronte ad un viale che mi fa ridere si chiama viale della pace a questa casa dove è ancora possibile entrare e quando appena mi sarà possibile vi posterò tutte le immagini il video salite delle scale devastate scrostate piene di macerie trovate delle porte nei piani più bassi con scritto spesso inciso nella porta che sono magari porte anche solo di legno o con un foglietto di carta un normalissimo foglio di carta attaccato con lo scotch con scritto qui ci abitano persone non entrate e non rubateci i pochi oggetti che abbiamo che è una cosa pazzesca la serratura quella che ho visto una di quelle che ho visto io era chiusa la porta era fermata con un cacciavite puntato quello era la chiusura il chiavistello bastava tirarlo su era l'unico modo per chiudere queste persone ancora oggi stanno vivendo lì in quel modo salendo la scala quello che si scopre è che il piano superiore di un condominio enorme sono stati sfondati volutamente dai militari ucraini i muri di separazione tra un appartamento e l'altro hanno fatto dei buchi non sfondato tutto il muro ma gli hanno fatto delle mega porte così apicconate in modo che nel momento in cui con l'artiglieria con le armi c'erano tutti i cecchini eccetera erano posizionati potevano cambiare posizione passare da una parte all'altra anche dall'altro lato senza dover sbattersi a entrare in un appartamento un terreno nell'altro hanno devastato tutto oggi ancora oggi è possibile vedere in una di queste case perché case quello che resta perché l'ho visto una cassetta di legno che probabilmente presto qualcuno prenderà per accenderci il fuoco con scritto che le sigle militari che erano le cassette delle munizioni è ancora lì è ancora lì per terra buttata in mezzo ad altre macerie quello che è stato fatto scientemente è stato quello di utilizzare quella gente quel popolo per difendersi per fargli fare da scudo quella per quelle persone sono dovute scappare ovviamente si sono nascoste nelle cantine ho parlato con alcuni di questi qualcuno uno in particolare è stato disponibile a rilasciare un'intervista filmata altri erano disponibili a parlare ma non volevano essere filmati perché sono molto dignitosi sono molto si hanno un loro orgoglio personale e anche un senso estetico personale e vi sembrerà strano ma la maggior parte delle persone non voleva essere filmata perché non era vestita bene perché non era pulita non era giustata e non voleva essere vista così una donna mi ha detto non voglio che gli occidentali mi vedano così perché poi pensano che siamo tutti così e mi ha fatto molto effetto questo mi ha fatto molto pensare quello che vedete oggi è ormai lo scontro non c'è più da diciamo maggio giugno gli ultimi forse l'inizio di giugno ma diciamo da maggio quindi sono passati più o meno sei mesi poco più e qualcuno adesso cioè tutti ormai non sono più nascosti nei bunker che non sono bunker ma erano semplici cantine qualcuno però ha ancora la sua roba perché dipende se la propria casa è stata bombardata oppure no la maggior parte ci sono aree intere completamente devastate dove però magari parte del condominio è ancora agibile cioè non sarebbe agibile per noi occidentali ovviamente ma per loro finché non è tutto bruciato dentro ancora ci si può stare altre aree proprio non c'è neanche il pavimento quindi non sarebbe possibile beh in quelle parti di condominio trovate ogni tanto vedete una luce accesa vedete delle persone dentro che non hanno altro posto che spesso non hanno neanche le finestre e fidatevi fa freddo qua non è bello loro mi raccontavano di essere stati in questi scantinati per lungo tempo e di avere molta paura ad uscire perché se uscivi potevi non tornare dentro e quando poi è finito lo scontro sono finite le guerre chi non ha avuto la possibilità di rientrare in casa è rimasto lì o ha cercato delle soluzioni alternative chi all'epoca poi della situazione intermedia comunque non aveva la cantina dove stare addirittura ha trasferito quel poco che aveva e che gli serviva per vivere di fronte alla propria casa o a quello che ne restava ci sono tantissimi lo vedrete dalle foto raggruppamenti di pentole fornelletti da campo poche divani o poltrone semi distrutte e due pezzi di legno uno qui uno lì e a volte uno dietro per ripararsi un po dal vento quello doveva essere il posto dove sopravvivere fino a che tutto questo orrore non fosse finito è una cosa agghiacciante questa signora aveva questo gruppo di cose queste pentole poltrona fornelletto da campo ancora di lato e lei viveva ora nella sua casa ma perché era stata lei dice fortunata non era completamente bruciata era con aree devastate ovunque a pochi metri da lei lei quella che mi ha detto non sono vestita bene non voglio che gli occidentali mi vedano e pensino che siamo tutti così queste persone hanno una forza d'animo incredibile ma quello che è successo tra marzo e aprile si potrebbe chiamare l'inferno mi si racconta ho parlato con un fotografo un fotografo di doniesc che è andato lì all'inizio degli scontri per fare un reportage fotografico e si è beccato un colpo molto vicino è stato buttato a terra per fortuna non è stato ferito era lì per cercare di aiutare dei bambini a scappare in questa situazione quello che si vedeva era una realtà veramente surreale non peggio del film dell'orrore c'erano corpi emaciati feriti sporchi che vagavano come anime in pena tra le macerie mi mi raccontano mi hanno raccontato che ci sono persone che hanno visto morire i propri cari in non poterli andare a seppellire da qualche parte primo perché non avevano neanche una pala secondo perché portarli in un cimitero sarebbe stato troppo pericoloso potevano non tornare più indietro nemmeno loro e quindi lasciavano i corpi lì davanti a casa magari accatastati uno sopra l'altro senza neanche poterli seppellire senza neanche poterli mettere sotto terra chi era più fortunato che aveva qualcosa per scavare riusciva a fare in fretta riusciva magari a fare un buco nel giardino di casa o magari nell'area limitrofa è successo che mi dicessero anche nel campo nel parco giochi di una scuola questa è la vita che loro sono stati costretti a vivere grazie alla geniale pensata di Zelensky di utilizzarli come scudi umani i mezzi di trasporto che loro avevano i pullman sono tutti al momento completamente distrutti c'è un cimitero dei mezzi militari e civili sono andata a vederlo anche se ci volevano dei permessi ho fatto una capatina veloce e perché sono tutti distrutti perché sono stati tutti colpiti no perché Zelensky li usava come barricate in mezzo alla strada oggi a Mariupol ci sono i pullman e se riuscite a leggere il russo scoprirete che tutti i pullman hanno la scritta donato dalla città di San Pietroburgo. Ora un altro episodio che mi è stato raccontato dal giornalista Vittorio Rangeloni che mi sta anche accompagnando e che ringrazio tantissimo in questa esperienza lui stesso ha anche ripreso e filmato quello che è successo quando proprio nel periodo caldo un centinaio di persone hanno attaccato una sorta di magazzino era un grandissimo magazzino sembrava quasi un centro commerciale ma era in realtà un magazzino che riforniva i negozi centri commerciali eccetera eccetera e aveva generi alimentari un centinaio di persone si sono fiondate dentro per riuscire a reperire qualcosa e addirittura lui vedeva dal tetto calare con le corde acqua scatolame cibo insomma quello che si poteva c'erano persone che riuscivano ad entrare e si fiondavano nell'area degli alcolici e bevevano di tutto per ubriacarsi e dimenticarsi c'era gente che non sapeva neanche cosa stesse bevendo mi raccontava di un personaggio che ovviamente non sapendo ha aperto una bottiglia di Moet Chandon la bevuta ha detto che schifo cos'è sta merda l'ha buttata via ha detto dov'è la vodka questa era la situazione ai limiti ai confini della realtà e poi si vedevano donne uomini persone in giro che correvano velocemente con dei carrelli della spesa cercando di qualcuno direbbe rubare ma non mi sembra appropriato data la situazione di riuscire a prendere dei pezzi di legno rompendo mobiletti delle scuole o degli uffici per avere qualcosa da bruciare molti scioglievano la neve era inverno ancora è qua fa freddo ve l'ho già detto per avere dell'acqua questa è stato l'incubo l'inferno che ha vissuto mario pol e noi diamo le armi a Zelensky mi sembra corretto e ci dicono che sono i russi che bombardano se stessi mi sembra corretto ora bisogna vederle queste cose bisogna sentirle bisogna vedere negli occhi questa gente che nonostante tutto quello che ha patito nonostante tutto quello che ha sofferto nonostante ti dica mio figlio è stato non sepolto il suo corpo era qui insieme a quello di mio zio e della mia vicina di casa non ho potuto seppellirli nonostante ti faccia vedere le pentole che ha dovuto utilizzare quando stava fuori è ancora in grado di sorriderti o di venire vicino a te e fare una foto con te e questo ci dovrebbe fare molto pensare a quanto la propaganda distorca completamente la realtà l'italia lo deve sapere gli italiani lo devono sapere perché chi ci governa probabilmente già lo sa ma non gliene frega niente Zelensky voleva quel territorio perché comunque sappiate che il Donbass è un po' come il Lombardo Veneto per l'Italia c'è una regione molto ricca ci sono le acciaierie ci sono un sacco di risorse c'è il gas naturale è la terra l'importante non chi c'è dentro chi c'è sopra non conta niente anzi magari lo possiamo usare potrebbe venire pure utile e così è stato corridoi umanitari non ne hanno fatti però sti russi visto che c'era sto problema l'ho chiesto mi hanno detto sì i corridoi umanitari venivano organizzati con degli orari specifici quando non c'erano bombardamenti seguendo dei percorsi specifici peccato che gli ucraini non ci permettessero di saperlo e quindi loro non potevano usufruirne fino a quando le truppe russe sono arrivate così vicine che sono riuscite a arrivare alla gente a liberarle a liberarli dalle case a liberarli dai bunker ma anche lì c'erano molta pericolosità perché quello che noi non ci rendiamo conto è che anche una bella fetta delle truppe ucraine aveva paura e sapeva che prima o poi sarebbe finita male anche per loro qualcuno voleva scappare ma non gli era concesso per cui cosa facevano si infiltravano tra i civili si infiltravano e cambiavano gli abiti magari ne facevano fuori anche qualcuno si vestivano come loro tenevano le armi e cercavano poi di inserirsi nei corridoi umanitari oppure prendere il posto dei medici e di chi portava le riserve alimentari insomma gli aiuti quelli passavano più facilmente o ancora di più facevano proprio delle imboscate all'interno dei bunker dei sotterranei e quando arrivavano perché questo è successo le truppe russe uccidevano tutti gli prendevano le divise facevano finta di essere dei russi e se ne uscivano questo è stato l'incubo che hanno vissuto le persone di mariupol un incubo che penso gli segnerà per tutta la vita perché non è una cosa che si può dimenticare questa e che cosa che cosa si prova nell'entrare a mariupol oggi una discrepanza di vissuti incredibile perché di fianco a tutta questa devastazione solo sei mesi dopo voi non avete idea della quantità infinita di gente che sta costruendo ricostruendo ci sono dei quartieri nuovi bellissimi vedrete le foto ce ne sono alcuni che sono 12 stabili messi a gruppi a ferro di cavallo in uno c'è un ospedale in centro nell'altro c'è una scuola c'è un'attenzione per le scuole incredibile sono le prime ospedali e scuole sono state le prime a essere ricostruite questa nuova zona residenziale ma non ce n'è una è tutto dove vi girate la città è molto grande io non sono neanche riuscito a vederla tutta motivo per cui ci dovrò tornare anche perché voglio andare anche all'acciaieria dell'azzovstal perché lì c'è molto da dire ma in ogni caso ho visto almeno tre grandissimi nuove aree una di queste è già abitata gli sono già state date le chiavi e chi ci va sono favoriti le persone che abitavano già in quella zona e che ovviamente devono mostrare di avere la propria casa inagibile sono case nuove sono case con i serramenti seri esteticamente dall'esterno pure molto carine con tutti i servizi ci sono sono previsti anche negozi ovviamente per ora c'è la scuola all'ospedale all'interno non sono ammobiliate però c'è il piano cottura ci sono i sanitari sono c'è già tantissimo ci sono stili sono di stili diversi con dei parchi con i campi da gioco per i bambini con il campo da calcio piuttosto che da tennis una roba incredibile e oltre a tutto questo vedete invece per le strutture che sono diciamo salvabili un sacco di persone pare che siano 28 mila gli operai mandati dalla russia al momento e non vi dico il numero di mezzi che sono stati mandati proprio per ricostruire ma guardate che questa cosa non sta succedendo solo a mariupol perché proprio ieri mentre camminavo per le vie di donesk mentre ero con vittorio che mi traduce perché io purtroppo il russo non lo so invece lui è molto bravo lo parla molto bene ci hanno fermato un furgoncino di elettricisti questi erano elettricisti russi che venivano qui a donesk per aiutare a sistemare i guai fatti dalle bombe che zelensky sta continuando a mandare razzi grazie missili vari grazie a insomma l'america l'europa che lo fornisce di armi e gli dà tanti bei soldini per poter fare tutto questo bel lavoretto tra l'altro qui a donesk non ci sono militari particolari non c'è un'area da colpire bellica c'è solo gente normalissima che sta cercando di vivere la sua vita a mariupol adesso non c'è più la guerra è tutto finito vi ripeto da maggio giugno e la ricostruzione sta galoppando chi ci viene con una certa frequenza parlando con questo fotografo anche ho potuto appurarlo lui mi diceva che da una volta all'altra è irriconoscibile perché alcuni palazzi pericolanti vengono completamente rasi al suolo per essere ricostruiti e quindi non li vedi più parti distrutte con macerie vengono ricomposte c'è tanto lavoro da fare veramente tanto però l'impegno è incredibile il teatro per esempio il teatro è famoso era famosissimo il teatro di mariupol e finché non è stato colpito il teatro ancora diciamo che la popolazione si illudeva di essere una realtà normale è in uno stato pietoso se lo vedete veramente fa fa male al cuore al momento è coperto con sapete quei specie di poster giganti insomma che vengono messi intorno semitrasparente però poi c'è un passaggio si può entrare anche questo ve lo farò vedere perché l'ho filmato ovviamente come è ora perché è stato anche tutto scoperto e c'è chi l'ha visto in fiamme al momento stanno ricostruendo comunque anche questo c'è anche una particolare attenzione agli edifici storici chi mi segue su telegram eccolo questo era un brazzo probabilmente chi mi segue su telegram sa che ho postato un video brevissimo in cui parlavo con alle mie spalle uno di questi edifici storici che a me piaceva moltissimo lo trovavo bellissimo completamente devastato ecco ho scoperto successivamente che si cercherà proprio di ricostruirli tutti e di mantenere lo stile che aveva mario pol che era bello insomma quindi i palazzi d'epoca le strutture di pregio verranno ricostruite e tutto questo grazie a quei cattivoni dei russi che in realtà vogliono solo la distruzione dicono sappiate che dal 2014 mi sembra che si è stata data l'opportunità no no ho detto una stupidaggine 2019 chi aveva il documento della repubblica popolare di donesk madonna sembra uno scioglilingua che era tra l'altro un documento che l'ucraina non ha mai riconosciuto per lui erano ucraini basta l'europa nemmeno quindi andare in giro con quel passaporto in europa valeva come i due di picchi a briscola è stata però chi nasceva come vi dicevo prendeva la cittadinanza russa chi avesse voluto avere un passaporto russo con quel documento quindi avendo invece così il documento di identità di della repubblica popolare di donesk veniva agevolato cioè è stata data questa possibilità anche perché la russia l'ha sempre riconosciuti quando è stata aperta l'opportunità eravamo appunto nel 2019 ci sono stati una richiesta così incredibile che l'anno scorso chi portava le pratiche gli veniva dato un bigliettino un numerino per poter poi tornare così come quando andate dal salumiere e vi mettete in coda e ci voleva un anno di attesa per riuscire ad avere il passaporto perché la richiesta è stata enorme pare che circa due milioni di persone abbiano ottenuto in questo modo il passaporto russo passando da questa strada insomma circa il 40 per cento delle persone pare perché non di più cioè l'altro 60 non lo voleva qualcuno forse no ma molti sì il problema è che non riuscivano a controllare a fare tutte le pratiche burocratiche in tempo questa è la volontà di questo popolo di stare con la russia che per loro non c'è distinzione non c'è differenza questa differenza è stata creata a tavolino apposta l'ucraina e la russia sono in realtà un tutt'uno culturalmente parlando fino a quando non si è cercata di creare una spaccatura fortissima imponendo una lingua diversa che a tutt'oggi ancora non la parla quasi nessuno e tutta una serie di imprinting di manipolazione voluta vi dirò una roba che vi agghiaccerà per quelli che dicono che non è vero che Zelensky è nel system no 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 stanno proponendo dei test del dna per verificare che gli ucraini non abbiano delle tracce nel dna di dna russo a me ricorda tanto la faccenda di menghele ma sarò io e può darsi sarò io questo è quello che è la realtà di oggi che nessuno dice o non abbastanza sì certo qualcuno sporadico lo dice ma non basta le persone devono conoscerla questa cosa e guardate che se venite qua non vi verrà mai il benché minimo dubbio che questo tipo di informazioni sia propaganda russa perché è impossibile perché lo vedete sentite le persone vedete le loro case vedete che qualcuno sta aspettando che gli vengano consegnate grazie ai russi le nuove chiavi qualcuno ha aspettato fino all'ultimo che arrivassero i russi a salvarli e poi invece erano gli ucraini e è stata una devastazione cioè queste storie questa realtà è tangibile perché ci sono ancora le tracce non sono passati 50 anni e poi allora vai a capire non ci sono più le persone non ci sono più le situazioni è ancora tutto qua è qua da vedere e a mariupol non è neanche pericoloso perché siamo a 100 chilometri dal fronte però io di media occidentali tradizionali noi freelance quelli come vittorio rangeloni tanto di cappello o pochi altri non c'è nessuno nessuno non ci vengono chissà come mai vabbè detto questo cosa volevo ancora raccontarvi che mi sembra importante beh sì volevo dirvi che in ogni caso quello che si percepisce è proprio che l'ucraina è stata una sorta di poligono un poligono per fare degli esperimenti sociali più di tutto esperimenti sociali per dividere il popolo per vedere se era possibile creare la guerra proprio come si dice come si dice normalmente come modo di dire fratello contro fratello perché in realtà è questo quello che sta succedendo ma mentre se verrete qua beh se passerà un anno due probabilmente sarà tutto nuovo dato il ritmo a tambur battente con cui stanno lavorando ma se foste qui con me oggi domani scoprireste che da una parte c'è una devastazione un dolore immenso pensate alle bassezze del genere umano più infime e forse non avete pensato abbastanza perché quello che succede in un momento di guerra è qualcosa che è innominabile ma nello stesso tempo vedete negli occhi di queste persone oggi sì tanto dolore ma anche tanta tanta speranza e questa a oggi gliela sta andando il popolo russo la russia perché loro sono il popolo russo e questo non bisogna dimenticarlo con questo io vi saluto perché qui dove sono io sono le 3 e 26 del mattino domani è una lunga giornata dirò un'ultima cosa che ci tengo a dire molti mi hanno detto sì tu fai vedere tutte queste cose ti apprezziamo per il coraggio eccetera però va bene ma cosa si può fare allora cercare di fare in modo che le persone lo sappiano perché anche i russi mentre da una parte hanno una sorta di predilezione per gli italiani oggi sono entrata nel primo negozietto così che faceva tipo negozietto e bar una sorta di diciamo autogrill non sull'autostrada e non così figo però insomma una roba del genere appena sono entrata c'era felicità c'è felicità di albano rumina power e c'era qualcuno che se la canticchiava quindi vedete non è che ce l'hanno poi con noi però quando io cerco di intervistare qualcuno subito mi riconoscono come italiana ma più che come italiana come occidente quell'occidente che sta finanziando questo scempio quindi è importante sia che loro sappiano che non tutti gli italiani la pensano così e anche che sappiano che se gli italiani e molti italiani purtroppo la pensano così è perché sono manipolati come anche loro sono stati manipolati quando c'era un'unione sovietica e passavano solo alcune informazioni allora quello si diceva che era lavaggio del cervello ma il nostro in occidente è uguale per cui solo chi ha la forza il coraggio l'opportunità di avere altri tipi di informazioni può porsi delle domande io mi rendo anche conto che ci sono persone completamente in balia della programmazione mentale che è in atto in maniera molto forte quindi da una parte vorrei che i russi fossero più consapevoli che non tutti gli italiani la pensano così e quelli che la pensano così è perché sono manipolati ma dall'altra parte se vogliamo fare qualcosa dobbiamo cercare di dare due ceffoni agli addormentati dove si può come si può per fare qualcos'altro di concreto domani incontrerò un uomo che viene considerato un eroe qui a Donetsk credo si chiami Andrei non penso di sbagliarmi si chiamano un po tutti Andrei però cercherò se la connessione mi prende mi tiene di presentarvelo lui si occupa di aiutare tutte le persone che stanno subendo dei danni in questo momento ma lo fa da anni lo fa dal 2014 si occupa dei bambini che rimangono orfani si occupa degli aiuti umanitari del cibo di fornire primo soccorso inizialmente si muoveva proprio sulla linea del fronte con la sua macchinina rischiando di essere centrato da qualche missile o da qualche colpo di artiglieria adesso gli hanno dato un forgone blindato per fortuna lo incontrerò perché io con l'associazione Eurasiart che è legata poi a Reinaldo Graziani con la quale sono venuta qui e tutto il gruppo Dugin vorremmo adottare a distanza uno di questi bambini cercare di aiutarlo dare il nostro contributo per pagare anche solo la scuola gli abiti e il cibo finché non sarà maggiorenne e ne approfitto per conoscere il lavoro di quest'uomo che è sicuramente un lavoro importantissimo è una persona che non ha preso medaglie che è chiamato eroe dagli abitanti di qui ma non è famoso come tutti quelli che fanno veramente qualcosa per gli altri senza avere niente in cambio non hanno nessun titolo onorifico di solito purtroppo ma andarlo a conoscere per me sarà importante e scoprirò anche la strada per poter aiutare qualcuno di questi bambini rimasti orfani grazie a questo schifo di guerra voluta non dal popolo non dalla gente non dalle etnie ma solo dai potenti che se ne fregano altamente di tutta la popolazione dell'umanità e se qualcuno poi fosse interessato proverò a prendere dei contatti in modo che possiate direttamente mettervi in contatto con lui non mi interessa fare raccolta e fondi non mi interessa chiedere soldi a nessuno però se posso fornirvi l'opportunità so che tanti hanno piacere di farlo di dare una mano penso che lui sia la persona giusta ma lo scopriremo domani non so quando questo video verrà pubblicato su youtube perché la connessione non so io lo metterò adesso se qui sono le tre e mezza in italia è l'una e mezza quindi comunque se anche dovessi essere fortunata uscirà in notte fonda mi dispiace per questo orario spero lo stesso che lo guardiate perché per me è estremamente importante a breve poi ci saranno altri video più accattivanti anche con le immagini che ho potuto filmare adesso le immagini ho cercato di passarvele attraverso la mia voce e spero un po di esserci riuscita grazie a tutti e buonanotte o buon risveglio chissà ciao